Arriva in prefettura la vertenza Basel che nelle ultime giornate ha raccolto l'attenzione non solo del territorio brindisino con le preoccupazioni sulle ripercussioni che può avere su tutto il comparto chimico-industriale brindisino. E i sindacati si sono incontrati proprio con Sua Cellezza e Prefetto di Brindisi per fare il punto sulla situazione occupazionale e la preoccupazione per le procedure di licenziamento già avviate e soprattutto aprire un tavolo di confronto che possa provare a trovare una soluzione a questa vicenda. Abbiamo visto che c'era già tanta attenzione da parte della prefettura rispetto a quelle che sono le ripercussioni che ci saranno non solo sugli impianti ma soprattutto sulle persone, sugli occupati diretti e indiretti che gravitano attorno alla tecnologia multi-zone che Basel vorrebbe superare a brindisi con la chiusura definitiva del P9T. Per noi in questo momento è essenziale far rivedere la posizione di Basel perché per quanto ci riguarda non ci sono le condizioni della fermata dell'impianto. Abbiamo registrato una grandissima disponibilità oltre che sensibilità anche da parte di Sua Cellezza e Prefetto e quindi su questa strada noi continueremo a chiedere a Basel di rivedere la loro posizione. Questo nostro avviso è solo l'inizio, infatti l'abbiamo ribadito anche a Sua Cellezza e Prefetto. Si toglie un tassello importante oggi se si accetta la chiusura del multi-zone e poi magari potremmo avere scenari più ridondanti perché a nostro avviso non reggerà poi lo stabilimento Basel-Brindisi una volta tolto un tassello importante come il multi-zone di Brindisi.